Buongiorno, oggi benvenuti. Oggi parliamo di un altro libro di M&S, Peter Kamenzind. Questa edizione è un'edizione della Burr del 1962 e quello che io costa 1000 lire, però è già un'etichetta, quindi probabilmente costava 200 lire, in quanto questo è un volume doppio, le dimensioni, e credo costassero 100 lire ogni volume, cioè la dimensione di ogni volume fosse 100 lire. Va bene, in ogni caso, Peter Kamenzind è stato scritto nei primi anni del Novecento, uno dei primi romanzi, insieme a Sotto la ruota, parla di questo contadino, contadino montanaro, abitante nelle ballate della Germania o della Svizzera, non è ben definito, che vive la sua prima parte, la prima parte della sua vita la vive dove nasce, parla con le nuvole, scala le montagne, vive intensamente un rapporto di intimità con la natura, vive nella famiglia. Poi si sposta, va a studiare, va a studiare nella città, è un ragazzo intelligente, e studia storia, studia anche italiano e diventa uno scrittore, vuole fare lo scrittore. Non scrive romanzi di successo, ma più che altro fa il giornalista, più che lo scrittore. Questo Peter Kamenzind vive diverse vite, la vita da studente, abbiamo naturalmente la vita da bambino, la vita da studente, vive alcuni anni a Zurigo, poi si sposta, vive alcuni anni a Parigi e di lì non vuole raccontare nulla, si vergogna in qualche modo, vive molte vite in situazioni diverse, vive anche un periodo, probabilmente per lui il più bello in Italia, in Umbria, si innamora di alcune donne, l'amore non corrisposto. Diciamo che in questo romanzo abbiamo, come nei successivi e anche dall'inizio, questi contrasti tra l'arte, tra la natura, tra la città, la campagna, la cultura, la tecnica, eccetera. E queste contraddizioni come si evidenziano in questo romanzo, attraverso la contrapposizione di diversi periodi della vita. A differenza di altri romanzi dove nello stesso periodo, in modo sincrono, si combattono cose diverse, qui questa diversità, questo contrasto si attua separando le parti finali. non vi racconto come va a finire, c'è nulla di tragico in questo racconto, però insomma diciamo che è un bel raccontino, un racconto di 150-160 pagine in questa versione, bello, e ci avvicina sempre di più all'Hermanesse della maturità. L'Hermanesse che scriverà i libri che sono diventati più famosi e che gli hanno anche dato il successo nel mondo occidentale. La prefazione del libro, che io vi sconsiglio di leggere prima del libro, parla un po' della penetrazione di quest'autore, una penetrazione che è venuta abbastanza in ritardo nel mondo occidentale, ma di questo argomento io non vorrei parlarvi. Quindi non so dove venga pubblicato adesso, ma credo che sia abbastanza, si possa ripetere facilmente l'edizione attuale, però ve lo consiglio, è bello, vi immerge a volte in alcune descrizioni della campagna, soprattutto delle montagne, molto 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 belle. E naturalmente siamo in una fase, come vi ho già detto in un altro libro, romantica, no? Quindi Hermanesse fa parte, non voglio classificarlo, ma il romanticismo è pienamente presente in questo bellissimo libro. Una cosa interessante che ho notato, così, un riferimento, no, un riferimento, un collegamento a qualcos'altro, ad un certo punto dice, ciò nonostante era stato assai più piacevole osservare le nuvole e le onde che studiare gli uomini, ma cossi con stupore che l'uomo si distingue dal resto della natura, soprattutto per una viscida gelatina di menzogne. Non andò molto che di modo di notare lo stesso fenomeno in tutti coloro che conoscevano, quale è il risultato dell'obbligo che grava su ogni singolo individuo e di rappresentare un personaggio ben determinato, mentre nessuno conosce se stesso. Qui mi ricorda Pirandello, le maschere di Pirandello. Poi più avanti dice, lo potrei rilevare anche in me, ricavandone una strana sensazione e rinunziai a penetrare nell'intimo degli altri, quindi quando si accorge di questo contrasto poi lui se ne va, sappiamo che se ne va. Lo trovavo dappertutto, persino nei bambini, quali, consciamente o inconsciamente, preferivano mimare una parte, anziché mostrassi nel loro istinto senza veli. Questo è un bel riferimento. Un altro aspetto che mi è interessante è quando racconta che studia l'italiano, sappiamo che i libri di Hermanesse sono in buona parte autobiografici anche, o traggono spunto dalla sua vita, studia l'italiano e poco dopo Hermanesse pubblicherà un librettino di cui magari parleremo, dedicato a Francesco D'Assisi che lui ammira tanto. Bene, concludo consigliandovi senza dubbio la lettura di questo libro. Peter Kamenzin, Hermanesse. Alla prossima.